Prova a fare qualcosa che non ti piace. Ora, prova a farlo un'altra volta. Prova a far finta che quello che stai facendo ti piaccia e prova a fare una serie di video. Prenditi complimenti e convinciti che stai facendo qualcosa di divertente. Spaccia la cosa che fai come il meglio che puoi fare. Svegliati una mattina e apri il tuo canale. Renditi conto che i tuoi video non sono un granché e prova a farne altri. Renditi conto che quello nello schermo non sei tu e puoi fare di meglio. Cerca di regolare il tutto inventando di qualcosa. Ora, prendi tutto questo castello di carte e soffiaci un po' di dubbi. Quante carte sono rimaste in piedi? Nessuna. Ho aperto il mio primo canale nel 2015 per poi chiuderlo e aprirne un altro. Ho abbandonato i gameplay per fare solo vlog. Non so perché, ma l'ho fatto. Ho sempre cercato di trovare il modo semplice per fare video. E se fai una cosa troppo semplificata, poi fa schifo e sanno farlo tutti. Allora, se sanno farlo tutti, perché dovrebbero guardare te? E infatti nessuno vorrà guardarti. Questo è quello che accade quando fai qualcosa che non ti piace. A me piace fare video su YouTube e continuerò a farli e voglio farli bene. Se un giorno vorrete dimostrare qualcosa, fatela al meglio. Almeno non avrete rimorsi. Quello che ho intenzione di fare è riaprire il vecchio canale e farlo a tema videogiochi. E tenere il nuovo canale come canale principale per i nuovi video. Ho intenzione di scoprire più cose e mostrarvele con qualità. Si rinizia. Un'altra volta ancora. Grazie. 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 Grazie.